Il quotidiano per la PIA Nel sistema PIA, accedere ai contenuti del quotidiano per la PIA è facile e immediato. La collaborazione con le riviste Aziende Italia, da sempre il punto di riferimento per chi lavora nella pubblica amministrazione, arricchisce il servizio di nuovi contributi e nuove sezioni. La sezione News raccoglie le notizie flash della Gazzetta Ufficiale e le anticipazioni legislative direttamente dalle aule parlamentari. Nella sezione Prima Pagina i commenti d'autore e le anticipazioni sugli articoli pubblicati nelle riviste Aziende Italia approfondiscono le principali tematiche di interesse per gli enti locali e per la pubblica amministrazione centrale. La rubrica Giurisprudenza contabile raccoglie gli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti sui temi più rilevanti. In Le buone pratiche nella PIA è possibile studiare le best practice messe in atto da enti locali e pubblica amministrazione in vari campi, selezionate dalla redazione di Aziende Italia e dagli autori del quotidiano per la PIA. Nella sezione Rassegna stampa è possibile consultare le notizie di particolare rilievo tratte dalle maggiori testate nazionali e di settore e dalle più importanti agenzie di stampa. Il nuovo motore di ricerca intelligente consente di digitare i termini desiderati per trovare subito la notizia di maggior interesse. Digitiamo ad esempio Video sorveglianza nei comuni. Avviamo la ricerca Selezionando il tab quotidiano, tra i primi risultati, il sistema restituisce i commenti ai provvedimenti più recenti sul tema ricercato. L'accesso alla home page del quotidiano per consultare tutti i suoi contenuti, compreso un utilissimo scadenzario, può essere effettuato anche con altre pratiche modalità. In ogni momento, durante la navigazione nel sistema, grazie al collegamento presente sulla barra degli strumenti, oppure cliccando sul link Sfoglia il quotidiano, presente nella finestra dedicata nella home page del sistema.